A 30 giorni dal femminicidio di Vania Vannucchi, l'operatrice socio-sanitaria aggredita ed uccisa dal collega Pasquale Russo, venerdì 2 settembre alla Cittadella della Salute del Campo di Marte si svolgerà un incontro istituzionale per presentare le iniziative messe in campo per il contrasto alla violenza di genere e che verranno realizzate in Lucchesia fra il prossimo autunno e l'inverno 2017. All'incontro parteciperà anche il capo della Polizia di Stato Franco Gabrielli per sottolineare la collaborazione fra tutte le istituzioni e il ruolo delle forze dell'ordine nelle operazioni di prevenzione, protezione e contrasto alla violenza di genere. Gabrielli presenterà in particolare il progetto recentemente attivato dalla Polizia Questo non è amore che ha lo scopo di rafforzare la fiducia delle donne che subiscono atti di violenza e sostenerle nel loro doloroso percorso di denuncia e rifiuto della relazione violenta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.